Ciao a tutti, ci sarà una rottura tra la mia amante e il suo marito? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere, di questi posti è in descrizione. Mescolate le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Ora, concentrati, concentrati su questo lui, cioè su questa lei, per la quale vuoi sapere se avrà una rottura col marito, sulla tua amante, e dopo di che scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1? Diciamo di no, perché comunque non hai un giudizio positivo nei tuoi confronti, perlomeno per averti come compagno. Chi ha scelto la carta 2? Ma se riuscirai a essere una persona solida, che le darai una stabilità anche economica, è possibile che faccia il passo, altrimenti no. Chi ha scelto la carta 3? Difficilmente arriverà a fare completamente questo passo. Ci arriverà forse vicino, ma dovrai fare qualche cambiamento. Chi ha scelto la carta 4? Diciamo che qualche possibilità ci può essere, ma devi giocarti bene una partita, non è così certo. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e benessere, di qui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!